Entra nel vivo la quarta chiamata dei buoni spesa stanziati dal Comune di Pesaro. L'operazione, dal valore complessivo di 490.000 euro, che interesserà più di 220 famiglie pesaresi che attualmente si trovano in difficoltà a causa della crisi generata dal Covid, ha raccolto le ultime domande nella giornata di lunedì e vedrà invece domani, giovedì 1 aprile, iniziare la distribuzione dei primi voucher. Lo stanziamento iniziale previsto era di 400.000 euro, mentre sono pervenute domande per un totale di 490.000 euro. Di fronte a questo aumento delle richieste, l'amministrazione comunale ha deciso di dare risposta a tutte le domande che sono pervenute e pertanto ha individuato già le risorse, le ulteriori 90.000 euro da destinare a questo intervento che va, lo ricordo, a sostegno delle tante situazioni nuove e criticità emerse con l'emergenza sanitaria. Sono famiglie, sono anche giovani coppie, sono anziani, singoli cittadini che si trovano oggi in grandi difficoltà. Le risorse stanziate andranno dunque a beneficio delle tante famiglie in difficoltà, ma saranno anche ulteriore liquidità messa in circolo nell'economia locale per tante attività pesaresi che vendono beni alimentari, beni di prima necessità. I buoni spesa, come dicevo, saranno consegnati a partire da giovedì 1 aprile grazie all'impegno di tanti volontari nei quartieri, coordinati dall'assessore Mila della Dora e da un grande lavoro che mette ancora in luce le capacità del volontariato in una città che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, anche in un momento di grande difficoltà come questo. La scorsa settimana si è concluso anche la possibilità di poter fare domanda per il fondo anticrisi. Le domande pervenute anche in questo caso hanno superato quelle che erano le previsioni, quelle che erano le stime, le risorse che avevamo destinato per uno strumento importante come quello del fondo anticrisi rivolto al contrasto, al disagio abitativo e quindi a sostegno degli affitti, delle utenze e delle bollette. Per la prima volta l'amministrazione era riuscita a stanziare 400 mila Euro già dall'inizio dell'anno per questa misura, una misura condivisa sia con le parti sociali e che è stata coordinata e seguita egregiamente dall'assessore alla solidarietà Sara Mengucci. Le risorse stanziate inizialmente di 400 mila Euro non sono state sufficienti per dare risposta a tutte le 719 domande che sono pervenute. Anche in questo caso l'amministrazione comunale ha deciso di individuare, di reperire ulteriori risorse per dare risposta a tutte le domande che sono pervenute. Quindi sono altri 280 mila Euro che l'amministrazione comunale stanzia a favore di situazioni e di difficoltà che sono pervenute con la pandemia.